Cinema di impresa nella sua azienda, perché? Mi è stato chiesto di collaborare a questo progetto e due sono i valori che mi hanno reso immediatamente disponibile. Che fosse un progetto di giovani e il secondo valore perché sempre di più attraverso la comunicazione video noi comunichiamo al mercato. In che modo l'hotel Milano Scala ha saputo conciliare l'idea di luxury con i temi di sostenibilità ambientale? La sostenibilità ambientale non è più un lusso, è un dovere. È un dovere che l'imprenditore che ha costruito questo albergo ha messo come condizione per poter ottenere un'impresa che generasse profitto ma non a scapito dell'etica. La scelta progettuale poi realizzata è di un albergo che non immettesse CO2 nell'ambiente e che utilizzasse quello che Milano ha in abbondanza nel sottosuolo ed è l'acqua di falda. Ci racconti in breve qual è il core business di Hotel Milano Scala? L'hotel esprime delle unicità che, come le dicevo, oltre all'ecosostenibilità sono delle iniziative che l'ospite apprezza in particolar modo, per esempio i concerti musicali dal vivo che tutte le mattine noi offriamo durante la prima colazione. Hotel Milano Scala in tre aggettivi L'hotel Milano Scala è facile, caloroso, familiare.